omicidio suicidio ad eva marina due anziani sono stati ritrovati morti in auto in viale italia chiavari 3 milioni e 700 mila euro di danno erariale appalti dai rifiuti per la guardia di finanza dovrà essere risarcito dai tre funzionari comunali anche con i propri beni personali divieto di balneazione a santa margherita ligure sulla spiaggia di ghiaia dopo il campionamento arpal dell'altro ieri buonasera dal tg tg ulio suicidio omicidio ieri sera a deva marina trovati dentro un'automobile due anziani privi di vita tragedia a deva marina ieri sera un uomo di 72 anni ha ucciso la moglie 77 anni con un colpo di pistola e poi si è tolto la vita si tratta di claudio pollero savonese skip professionista ed elisa la rovere imperiese i due dopo aver vissuto in costa smeralda per seguire la carriera del marito erano rientrati pochi anni fa in liguria sulle alture di deva nella serata di ieri verso le 19 marito e moglie sono stati ritrovati senza vita in macchina da un passante in viale italia sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e secondo quanto ricostruito dagli investigatori si tratterebbe di un piano calcolato i due infatti avrebbero lasciato le chiave di casa i vicini e le cane al canile per poi compiere il folle gesto in auto durante la serata di ieri con estrema calma la dinamica sembra chiara l'uomo avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe sparato alla testa con una pistola regolarmente registrata abbiamo decisamente argomento sull'imminente apertura di un supermercato gulliveri in via gagliardo a chiaveri gli uffici comunali di palazzo bianco si sono rifiutati di rendere noto l'esito di un sopralluogo svolto a seguito di una richiesta di verifica sull'inquinamento acustico questo secondo quanto riferiscono i consiglieri regionali del movimento 5 stelle gabriele pisani e fabio tosi voci insistenti vogliono l'inaugurazione del gulliver già nel mese di giugno dicono i pentastellati una scadenza assolutamente ravvicinata se è vero che ancora ad oggi non sappiamo neppure se sia stato rilasciato o meno il permesso di costruire se tutto è in regola concludono pisani e tosi perché non attuare la dovuta trasparenza e restiamo a chiaveri per parlare di appalto dei rifiuti la guardia di finanza contesta ai tre dipendenti del comune coinvolti in un'operazione scattata qualche mese fa un danno erariale per 3 milioni 700 mila euro da risarcire un danno erariale per oltre 3 milioni e 700 mila euro al comune di chiavari e la segnalazione che la guardia di finanza di genova ha fatto alla corte dei conti nell'ambito dell'operazione posidonia che vede già indagati tre dipendenti del comune e quattro imprenditori per lo smaltimento delle alghe sulla spiaggia del porto nel 2014 i reati contestati erano quelli di turvativa d'asta falsità ideologica e truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico i finanzieri analizzando la documentazione amministrativa e contabile acquisita in comune per appalti da oltre 15 milioni di euro hanno riscontrato varie irregolavità e diversi affidamenti con proroghe in assenza di nuovi bandi inoltre dall'analisi della documentazione relativa all'assegnazione dei lavori di raccolta e trasporto delle alghe depositatesi nel 2014 sulla spiaggia adiacente al porto turistico di chiavari era emersa all'applicazione da parte dell'impresa affidataria di prezzi gonfiati fatturati al comune di oltre il 300 per cento rispetto a quelli reali adesso andiamo a santa magherita ligure divieto di balneazione lungo il tratto della spiaggia di ghiaia il provvedimento arriva dopo il campionamento arpal dell'altro ieri di marte di 15 maggio che ha dato esito non conforme l'ordinanza messa dal sindaco di santa magherita paolo donadoni è pubblicata l'albo operatorio specifica che il divieto si applica sul tratto di costa tra la spiaggia libera ubicata dopo l'hotel elios e quella libera antistante l'hotel lido palace l'ordinanza sarà in vigore sino a esiti diversi dei prelevi al pal nel tratto di mare interessato continuiamo a parlare di mare o meglio di porto di santa magherita ligure perché la santa benessere social ha i requisiti per trattare con il comune di santa magherita ligure accolta alla richiesta la seduta è stata convocata nuovamente per martedì 22 maggio alle 17 30 quando verrà proiettato e illustrato il progetto la santa benessere social dunque ha i requisiti legali per poter trattare con gli enti pubblici e il parere espresso dall'avvocato corrado mauceri legale del comune di santa magherita ligure letto dal dirigente del settore tecnico l'ingegnere pietrancesco feriani alla riunione che si è svolta ieri della commissione sul porto presieduta da carmela pinamonti dopo questo parere che indica la possibilità di procedere con l'iter dunque i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto ufficialmente alla presidente di ricevere tutta la documentazione inerente al progetto onde poteva discutere la pratica con cognizione di causa e decidere al meglio e per il bene della città torniamo a chiavari per tre notizie la prima l'amministrazione comunale ha siglato con la prefettura di genova un patto per l'attuazione della sicurezza urbana le parti individuano come obiettivo prioritario l'installazione o il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza comunali si legge nell'accordo si citano le zone di colmata e colmattina le periferie come aurelia san terenziano consolima rialto caperana rovereto e poi la zona del centro cittadino per supportare l'implementazione dei sistemi di sicurezza si spiegano quelli del comune di chiavari si intende procedere all'installazione di nuove telecamere di contesto e di lettura targhe i progetti dunque saranno valutati dal comitato provinciale per e la sicurezza pubblica e come detto restiamo a chiavari ma per parlare di sport di vela perché sabato e domenica torna a chiavari una regata che mancava da circa 15 anni sabato e domenica di questa settimana ovviamente torna a chiavari una regata che mancava da moltissimo tempo franco certo è la x yacht cup è una regata che tutti gli anni si svolge in una località diversa dell'europa del mediterraneo e quest'anno siamo riusciti meglio la x yacht è riuscita a riportarla a chiavari dopo tantissimi anni però è stata fatta mi pare 15 anni fa è riuscita a riportarla a chiavari in modo che così abbiamo questa regata sabato e domenica riservata alle imbarcazioni x yacht è una bellissima manifestazione perché la x sono barche fantastiche gli armatori vengono da tante parti non solo da qui ma anche dalla francia dall'inghilterra eccetera e bello riavere a chiavari questa manifestazione è una regata destinata alle classi orc e libera sempre come ho detto riservata alle sole imbarcazioni x si svolgerà completamente nel golfo del tiguglio adesso vedremo a seconda del tempo se triangoli bastoni eccetera ma è tutta riservata nel tiguglio si svolgerà sabato e domenica venerdì sera ci sarà un aperitivo di benvenuto ai vari armatori sabato sera ci sarà una cena organizzata dalle x yacht in città chiavari domenica pomeriggio la premiazione ma è stato molto bello proprio e ringraziamo la x per di questo avere l'incarico di organizzare questa manifestazione che al di fuori delle regate normali abbiamo detto i giorni vogliamo dare qualche orario venerdì allora venerdì sera alle sette e mezza otto c'è il cocktail di benvenuto per gli armatori sabato mattina il briefing alle nove la partenza è prevista alle 11 11 e mezza domenica la partenza sarà in base a quello che decideranno i giudici ma prevediamo ancora verso le 11 e alle 5 e mezza 6 ci sarà la premiazione in porto come tutti gli anni un tipo di imbarcazione particolare che tornano a chiavari vogliamo spiegare perché sono particolari sì gli x yachts sono imbarcazioni prodotte in danimarca quindi sono imbarcazioni prodotte nei mari del nord hanno tra le loro caratteristiche peculiari quelle di essere imbarcazioni che tengono molto bene il mare ma storicamente sono anche imbarcazioni dedicate alla regata alla regata alle performance a quella che viene definita crociera veloce è un prodotto di qualità molto alta con caratteristiche di marinità e sicurezza decisamente elevate materiale con cui sono state costruite particolari no beh sono tutte in vetro resina e possono essere equipaggiate con alberi in alluminio o alberi in carbonio per chi vuole essere un po più performante sui campi di regata quante sono grosse più o meno va andiamo dai 9 metri 90 fino ai 21 metri in questa edizione della x yachts madcap avremo praticamente tutto il range delle nostre barche schierate nel golfo del tiguglio quante sono numericamente le barche abbiamo previsto e sono iscritte oltre 25 imbarcazioni ci saranno circa 300 partecipanti alla regata e diciamo che è un buon risultato in questo momento ed è piacevolissimo riportarle nel golfo del tiguglio e a chiavari perché da dove noi siamo partiti come importazione e dove noi stessi per primi svolgiamo e partecipiamo alle regate abilmente organizzate dallo yacht club con l'aiuto della lega navale quindi è sicuramente un ritorno alla nostra base ed è un vero piacere averle qua il cabarettista andrea di marco sarà protagonista di uno spettacolo sabato sera con inizio alle ore 21 presso l'area feste della scuola maria luigia di chiavari la serata organizzata dall'associazione amici di simone tanturli inizierà alle 19 con la distribuzione di focaccia al formaggio necessario alla prenotazione per la focaccia l'ingresso per lo spettacolo invece sarà libero con raccolta di offerte a favore dell'associazione che si occupa come noto di dare una mano alle famiglie con bambini cosiddetti speciali grazie a tutti grazie a tutti aggiornamento sui lavori cittadini ruspa in azione per sistemare la spiaggia di ghiaia e tenere pulita la zona della foce e dei torrenti cittadini sempre in ghiaia sono terminati i lavori di ripristino di uno dei due moletti in pietra proseguono intanto i lavori di rifacimento della pavimentazione di via Cervetti Vignolo e sugli edifici scolastici di piazza Roccatagliata dove è pronto a partire il terzo lotto dei lavori dopo un lungo impegno progettuale adesso stiamo assistendo allo svolgimento di molti cantieri in città sia nelle zone di centro che nelle zone frazionali concluso il primo moletto di ghiaia sono ancora in corso i lavori per il muro di sostegno in Gaffigallo parte adesso il terzo dei cinque lotti previsti dei lavori nelle scuole tanti piccoli segnali di una città che cresce e che si muove per migliorare la sua bellezza e la qualità della vita dei suoi cittadini il parco di Portofino è sempre più accessibile a tutti grazie all'associazione Serenamente che ha donato una carrozzina elettrica il mezzo consentirà di percorrere gran parte dei sentieri del monte a persone con difficoltà motorie ha una durata di circa 60 km quindi permette di poter percorrere tutta la strada principale del parco e poter fruire delle bellezze di questo splendido territorio fare con il piazzetta la presentazione di questo scooter che offrirà la possibilità di percorrere il nostro monte le nostre strade qua passeggiate anche alle persone che hanno dei problemi accoglienza Pullman Turistici, riunione nei giorni scorsi con i battellieri convocata dal sindaco Paolo Donadoni alla presenza degli amministratori di Portofino e Rapallo per usufruire del mare come via di collegamento per i turisti intanto i tre sindaci hanno accolto il primo Pullman che ha utilizzato la nuova piattaforma di prenotazione attivata da ATP, una committiva di francesi provenienti da Grenoble ha coinvolto quasi una tantina di atleti, la ventesima edizione dello sport non ha handicap manifestazione sportiva dedicata a persone con disabilità che oltre al basket in carrozzino ha portato in piazza tornei di sitting volley, scherma in carrozzina e calcio quest'anno abbiamo allargato una giornata in più e abbiamo messo sia la scherma che il calcio e il sitting volley per Santa Margherita, comune bandiera Lilla è un orgoglio poter essere palcoscinico di manifestazioni come questa manifestazioni di sport e di solidarietà Villa Durazzo ha ospitato la cena di gala del club Soroptimist International l'Italia nel Tiguglio nel weekend scorso per il 120esimo consiglio nazionale, anche il sindaco Paolo Donadoni insieme al collega di chiave di Marco Di Capo ha salutato le delegate Siamo un'associazione mondiale di donne che lavorano fermate professionalmente, siamo distribuite in tutto il mondo in Italia abbiamo 151 club e quasi 6.000 socie In chiusura uno sguardo agli appuntamenti del fine settimana a cominciare dall'apertura del venerdì della sala espositiva Maestra e Mestè Doppio appuntamento da spazio aperto, sabato con la musica, domenica con l'anfas e il mosaico Musica dal vivo, sabato sera al circolo Arci Orchidea Diario di bordo, foto di viaggio a cura di fotoclub Avis Uno sguardo alla programmazione del cinema di Santa Margherita Ligure e al teatro sociale di Camogli Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone Partiamo dalla gradita visita del presidente Mattarella al Gaslini di Genova Una visita che ha voluto gratificare e onorare una realtà che in realtà è una importante realtà del nostro territorio Un punto di riferimento al quale tutti noi ci rivolgiamo ai noi ma anche col pensiero e anche con quelle che sono le azioni di solidarietà E per parlare di questo siamo con la presidente di Entella nel cuore, Sabina Croce Che è stata invitata a rappresentare l'Entella appunto durante la visita del presidente della Repubblica Un momento emozionante, così è stato definito da tutti e immagino che anche lei lo ha vissuto in questo modo Sicuramente sì, è stato un evento organizzato in maniera semplice ma toccante, pulita, corretta, così com'è nello stile del presidente E' stato sottolineato come questo ospedale che è proprio un'eccellenza nostra di cui dobbiamo andare fieri E che non dobbiamo mai dare per garantita e scontata perché c'è bisogno sempre di sostenerla I contributi che lo Stato gli dà non sono assolutamente sufficienti a garantire tutto quello che il Gaslini fa al di là della vera assistenza E' stato sottolineato come ogni anno più di mille bambini vengano assistiti, più di mille bambini stranieri che provengono da oltre 70 paesi del mondo Oltre a tutti naturalmente i bambini del territorio e del territorio nazionale che convergono su questo istituto d'eccellenza Per motivi di ricerca, per motivi di avanguardia nelle terapie, nelle tecniche Tutto questo non è gratis, il Gaslini ha bisogno di essere moltissimo sostenuto Noi nel nostro piccolo lo facciamo regolarmente, cerchiamo di mantenere anzi anche una specie di collegamento costante Andiamo a fare visite ai bambini, sembra una sciocchezza ma invece è un momento di comunanza E che alle famiglie dà grande sollievo e tutte le volte che io vado questa cosa qua l'avverto chiaramente E insomma sono stata fiera di rappresentare Lentella e anche un po' Chiavari e anche un po' tutti i cittadini del territorio Che sempre regolarmente, compresi i nostri club di tifosi, compresi tante altre associazioni solidali Ci aiutano nel portare avanti questo sostegno al Gaslini Una data è stata fissata ed era quella degli 80 anni di questa realtà di grande prestigio per noi 80 anni con un'inaugurazione all'interno di questo compleanno, se vogliamo chiamarlo così Sì, il compleanno era probabilmente l'occasione ed è stato giusto che ci fosse un imprimatur così importante Ma nel frattempo è stato inaugurato ufficialmente questo hospice pediatrico per il quale noi abbiamo tanto collaborato Anche noi nel nostro piccolo naturalmente perché queste cose sono cose importanti e grosse Ma noi come Lentella nel cuore, i tifosi dell'Entella e tanti altri cittadini Abbiamo fatto questa famosa raccolta dei nasi rossi, iniziata quando abbiamo presentato la squadra due anni fa in piazza Mazzini E durata parecchi mesi, quindi la raccolta è stata importante L'hospice pediatrico è una realtà che è, secondo me, di una civiltà in senso sanitario e terapeutico estrema La parola hospice si definisce da sé, serve per i malati che non hanno speranza di guarigione Per l'adulto si tratta proprio di una fase terminale Per i bambini è diverso Si tratta di un punto di collegamento fra l'ospedale e la famiglia Nel quale i bambini possono essere transitoriamente alloggiati quando le famiglie non sono in grado di affrontare tutte le terapie a casa Sono momenti temporanei, magari poi la famiglia torna a casa con il suo bambino E poi ripassa di lì quando è in un momento di bisogno, una terapia, qualcosa Però la famiglia può vivere lì con il suo bambino Il bambino malato può stare lì con la sua famiglia, anche con il cagnolino Quindi non è ricoverato in un ospedale fondamentalmente E ha tutti i vantaggi dell'ospedale Quindi è un modo per sollevare la famiglia e il bambino In questo momento Ed è, secondo me, l'estremo momento di civiltà della cura di persone che non hanno speranza Quindi tornando a Gaslini, sicuramente l'attività di Entella nel cuore e di tutto quello che ne è L'insieme sarà operativa anche per quest'anno Ricordiamo che l'ultimo evento è stato davvero un evento partecipato al cantero di Chiavari E ricordiamo anche che la città risponde sempre, in questo senso Sempre, sempre E d'altra parte la città risponde quando sollecitata nella maniera giusta E come si fa a non rispondere quando si tratta di bambini Tutti noi, tutti coloro che hanno in famiglia qualche bambino Sanno che in caso di bisogno possono sempre contare su una realtà così importante In un territorio dove molto spesso ormai vengono a mancare delle realtà consistenti Che danno grande sollievo in tutti i campi Questa presenza dei cittadini relativamente al territorio e alle sue necessità Credo che vada sottolineata in tutti i suoi aspetti Sì, non solo sottolineata, va anche stimolata Perché la vita che si fa oggi tende poi a portare ciascuno a occuparsi dei problemi suoi E ripiegarsi un po' nell'individualismo Non è così, noi abbiamo una comunità che è un po' in difficoltà E dobbiamo ricordarci sempre che mantenere delle reti E mantenere delle radici E mantenere un'identità è importante per farci sopravvivere Quindi aspettiamo il prossimo invito Sì, qualcosa mi dovrò inventare Visto che non ho più il teatro su cui far conto Però vediamo cosa succede Previsioni per domani, venerdì 18 maggio Cielo poco nuvoloso su tutta la regione Locali di ensamenti più consistenti lungo i rilievi Durante le ore più calde della giornata Precipitazioni generalmente assenti Salvo brevi dei temporanei rovesci lungo le zone interne nel pomeriggio E in qualche caso in locale avvicinamento alle coste Vento debole di direzione variabile Mare poco mosso Le temperature previste Sulla costa da 13 e 21 gradi Nell'entotera tra 8 e 20 gradi Grazie a tutti Grazie a tutti